Focolaio Covid ad Anghiari, siamo nella Valtiberina Toscana. La notizia aveva sconvolto non poco la popolazione. Allora a specificare quanto è accaduto è stato proprio il sindaco Alessandro Polcri. Il focolaio Covid si è sviluppato durante un ritiro spirituale. Si tratta di alcune persone che erano presenti le scorse settimane, ma anche questa settimana nel contesto di Anghiari. Dunque possiamo dire nella campagna di Anghiari da un punto di vista generico. Dunque sono persone che si sono fermate qui a Anghiari, hanno fatto un ritiro spirituale, ci sono anche dei religiosi, ci sono delle famiglie con dei bambini. Dunque sono stati da questo punto di vista molto prudenti le stesse persone, le stesse famiglie che in qualche modo hanno iniziato loro a fare una prima valutazione e poi dopo l'ASL assieme a Lusca hanno fatto i tamponi. Dai temponi sono emersi per adesso 15 casi positivi. Al momento sono stati comunicati solo 10, ma tra oggi e domani verranno comunicate anche gli altri 5. Da questo punto di vista posso dire che la situazione è sotto controllo perché proprio è il contesto dove si trova che è particolare. E dunque loro in qualche modo sono andati a cercare anche una tranquillità al di fuori del contesto del paese. Dunque speriamo che la situazione rimanga circoscritta. Ma insomma sono tutte persone molto collaborative e che hanno dato una mano al comune e soprattutto all'ASL. Non possiamo dire il luogo nel senso dal punto di vista della riservatezza, però possiamo dire che proprio al di fuori del perimetro del capoluogo di Anghiari dunque possiamo dire proprio fuori fuori fuori. Dunque diventa anche difficile andare in quei contesti perché sono contesti molto particolari che non sono mete battute dai turisti che vengono in questo periodo a Anghiari.